Sia la salvaguardia di livelli occupazionali no alla svendita dell'ente, all'indomani della chiusura dei termini per le domande di acquisto dell'azienda o di alcuni suoi rami nelle sedi di Biceglie, Foggia e Potenza, la politica chiede trasparenza e cerca di tenere alta la guardia sulla questione Casa Divina Providenza. Al momento sarebbero una decina le manifestazioni di interesse arrivate al commissario straordinario. Il privato che acquista è obbligato a favorire la continuità aziendale. Chi compra, cioè dovrà proseguire nel solco iniziato dal fondatore Don Pasquale Uva, assicurando gli stessi livelli di assistenza sanitaria. I timori però non mancano. Se compra qualcuno che per offerta economica risulta più accreditato ma che poi dopo qualche giorno, qualche mese o qualche anno comincia a fare tagli sbattendo i lavoratori presso la casa comunale o presso la sede regionale, quello sia un pericolo davvero serio che va scongiurato attraverso l'inserimento di alcune clausole di salvaguardia per le quali penso lo stesso presidente, il governatore Michele Emiliano, si sia preoccupato durante il Consiglio regionale di fare il riferimento in modo specifico, proprio parlando della salvaguardia dei livelli occupazionali. Secondo alcuni è sempre percorribile la strada dell'acquisto da parte del pubblico. La regione Puglia si è detta disponibile a fare la sua parte adeguando le rette. Una parte, secondo il sindaco di Biceglie, potrebbe farla anche il comune relativamente alla sede storica dell'ente. Una fondazione per la gestione di ospedali, di strutture pubbliche, strutture assistenziali, sanitarie, non è una soluzione tecnicamente e giuridicamente inammissibile, il comune è pronto a fare la sua parte anche economicamente.